e altri primi cittadini nella provincia di Roma per parlare di come ripartire con le scuole tra le problematiche, mancanza di aule, anche questioni relative ai trasporti. Sì, è un incontro territoriale, è in corso già da diverse settimane, sono in corso i lavori del tavolo regionale che è quello di coordinamento all'interno del quale i comuni sono presenti attraverso l'Anci partecipato a tutte le riunioni, l'ultima con il ministro Azzolina alla quale abbiamo rappresentato la criticità specifica, speciale del nostro territorio tanto siamo partiti molto tardi, le scuole hanno avuto forse un'attenzione minore rispetto a quella che avrebbero meritato nel porre le linee guida che dovevano essere adottate per poter mettere gli enti locali e gli istituti scolastici in condizioni di poter lavorare. Abbiamo rappresentato quella che è la nostra situazione, noi come Comune di Teramo come programma partecipazione ai PON, abbiamo avuto 310.000 euro, abbiamo già presentato i progetti, abbiamo già formalizzato le candidature per la sistemazione di alcuni spazi interni dei nostri istituti scolastici, di certo non è questa la soluzione anche perché i PON, su cui siamo già intervenuti come dicevo, non consentono ad esempio l'utilizzo di spazi esterni. E poi c'è l'altro tema che a mio avviso è fondamentale e dobbiamo ribadire a tutti i livelli il territorio della nostra provincia, un territorio che già è stato costretto per un'altra calamità naturale per altre due calamità naturali, a ridurre gli spazi, a rivedere gli spazi, parlo ovviamente del sisma che ha portato alla chiusura di edifici scolastici e di altri edifici pubblici. Quindi una riorganizzazione, una rimodulazione degli spazi oggi è impossibile per il nostro territorio in modo efficace e per questo abbiamo chiesto sia dall'amministrazzolina che al commissario stradino Giovanni De Nini delle misure straordinarie, specifiche, che ci consentano appunto di intervenire in base a quella che è la nostra condizione. Da ultimo anche al commissario De Nini abbiamo posto il tema dei MUSP, di poter avere delle strutture mobili, provvisorie, modulari che ci consentano di affrontare l'emergenza Covid, quindi con gli spazi relativi all'emergenza Covid in relazione al problema degli spazi derivanti appunto da una ricostruzione pubblica che come sappiamo non per responsabilità né dei comuni né delle scuole è ferma. E l'altra questione importante, abbiamo chiesto di integrare il tavolo regionale con l'università. Ho già parlato con il magnifico rettore Mastrocola che come sempre si è dimostrato disponibile a mettere a sistema anche gli spazi universitari, è chiaro che noi dobbiamo tutelare anche l'attività universitaria che ovviamente risente anch'essa di una ricostruzione di spazi. Chiederete spazi quindi all'università? Sì, ho già informalmente chiesto al magnifico rettore ovviamente gli spazi che sono a disposizione perché chiaramente nella ricognizione che si sta effettuando non può essere tenuta fuori l'università. Anche la provincia? Chiederete spazi proprio? Ma la provincia ha i suoi problemi di spazio, nel senso ha le sue scuole e deve rinvenire gli spazi per le sue scuole nel territorio. Ciascun comune dovrà farlo in relazione agli istituti scolastici sul territorio di competenza. È chiaro che nel momento in cui tu hai un monitoraggio complessivo, una fotografia complessiva della situazione reale, puoi intervenire anche incrociando gli aspetti, incrociando i dati. Una cosa abbiamo chiesto, perché qui lo chiedo anche e soprattutto come ANCI, intanto che anche la regione Abruzzo, il cruscotto regionale che è il contenitore che monitora tutto deve essere accelerato. E poi l'altro aspetto è che ferma restando l'autonomia scolastica vengano date dagli organismi centrali, provinciali e regionali degli indirizzi chiari, univoci, indirizzi chiari, indirizzi che ferma restando l'autonomia scolastica però consentano di avere una risposta omogenea e una soluzione omogenea. Perché voi immaginate se ciascun istituto si muove in modo diversificato senza indirizzi chiari, abbiamo un impatto della vita scolastica sulla vita complessiva di una comunità che ovviamente rischia di essere fuori controllo. Ecco perché, anche con l'assessore Verna su Teramo ad esempio, come sapete stiamo ridefinendo il piano regolatore degli orari, perché i tempi delle città e anche della nostra città capologo di provincia, alla luce dell'emergenza Covid e anche del problema scuole, devono essere necessariamente rivisti.